Buongiorno a tutti e a tutte, sono Alessia De Logo e vengo da Usini. Oggi vi mostreremo dei progetti creativi realizzati da noi. Abbiamo realizzato dei capelli con dei materiali riciclabili. Questo capello è stato realizzato con un piatto di plastica, poi dipinto con della tempera rosa. Abbiamo attaccato delle cannucce colorate con la colla vinilica. Poi abbiamo realizzato questi fiocchetti con dei fazzoletti colorati e li abbiamo attaccati attorno con sopra dei bottoni colorati. Abbiamo incollato della lana colorata e abbiamo aggiunto delle conchiglie. Grazie. 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 Grazie.